È stato un incontro molto costruttivo e importante, la Ministra Garfagna si è impegnata personalmente a procedere speditamente con la nomina del Commissario per la ZES e dare finalmente uno strumento indispensabile allo sviluppo e alla crescita del territorio. Abbiamo condiviso la necessità di riequilibrare i fondi del Piano Nazionale di Riforma e Resilienza, cioè il Recovery Fund, a favore delle Regioni del Sud nell'ottica della coesione territoriale e quindi grande attenzione al recupero del divario di infrastrutture e di strumenti che oggi le Regioni del Sud soffrono ormai storicamente da molto tempo e per il quale il Recovery Fund deve essere un'occasione d'oro, un'occasione preziosa per colmarlo questo divario e rimettere l'Italia e tutti gli italiani nelle stesse condizioni. Abbiamo affrontato anche un altro tema importante che è quello del contratto istituzionale di sviluppo per il turismo montano che era rimasta una scatola vuota, siglato dalle precedenti amministrazioni, ma mai visto riunire un tavolo istituzionale, né nessuno ha messo fondi veri per poter far partire i progetti. Da parte del Ministro mi è stata data assicurazione che una veloce e prossima convocazione di questo tavolo per riempire di contenuti questa scatola e ampliarla anche al turismo più in generale che riguarda tutta la Regione e non soltanto il turismo montano o un settore del turismo montano come era stato previsto precedentemente.